Abbiamo colto la legge regionale di luglio del 2015 che dava la possibilità di poter intervenire nel centro storico visto il problema che abbiamo vissuto noi dalla Cannizzo ad oggi perché con quella scelta scellerata che è stata fatta in passato abbiamo vincolato l'economia dell'edilizia nel centro storico con i risultati che tutti noi vediamo quello dell'abbandono del centro storico verso le periferie questa legge ci permetterà di poter intervenire e ristrutturare dentro il centro storico solo nei casi stabiliti per legge, solo in quei monumenti hanno una valenza storica e non sono molti perché noi non abbiamo un centro storico di la maggior parte di edifici storici sono a macchia di leopardo e quindi nel resto si potrà intervenire tranquillamente addirittura pure con la demolizione, la ricostruzione e anche con l'aumento volumetrico dell'edificio sempre nel rispetto delle norme e sempre con i pareri della sovrintendenza perché quelli sono fondamentali per quanto riguarda il centro storico questo è un grosso risultato perché possiamo dare il via all'economia di questa città oggi iniziamo questo percorso perché verrà depositato da parte dell'ufficio verrà pubblicato quello che gli uffici hanno fatto e poi si avvieranno le procedure e si concluderanno nell'arco di 180 giorni questo è tutto il percorso e da quel momento si darà il via a questo percorso che è un percorso di crescita economica della città l'amministrazione del comune sta pensando anche ad un regolamento per agevolare magari quelle persone che vorrebbero ristrutturare però che poi non hanno i fondi sì, stiamo valutando anche questo ma in forma indiretta nel senso che con delle decurtazioni, il pagamento del suolo pubblico di non pagare al suolo pubblico o di alcune altre forme di non pagamento dell'Imu vediamo giuridicamente, io non posso pronunciarmi perché la legge su questo dobbiamo anche avere a che fare con la legge e con le modalità del pagamento delle tasse e se può essere una cosa percorribile quella del suolo pubblico è una cosa certa e sicura perché lo possiamo fare degli altri stiamo valutando come poter intervenire per dare un ulteriore incentivo anche se, devo dire, c'è una legge regionale votata in finanziaria, penso due anni fa o magari più di due anni fa, non mi ricordo dove dà la possibilità a chi vuole intervenire nel centro storico di poter chiedere finanziamento mutuo a tasso zero a tasso zero perché gli interessi li paga la Regione quindi questo è un aspetto molto ma molto importante chi vuole realmente intervenire nel centro storico questo regolamento è logico, è importante farlo come Comune nel momento in cui non l'abbiamo fatto prima perché aspettavamo questo risultato perché se non puoi intervenire realmente con queste modalità di ristrutturazione molta gente non aveva l'interesse di andare a intervenire nel centro storico perché era anti-economico quindi nel momento in cui raggiungeremo questo obiettivo avremo pronto pure un regolamento e daremo la possibilità con l'incentivo da parte della Regione è quello che possiamo dare noi nel rispetto delle norme e quindi incentivare la gente a rivivere il centro storico e abitare dentro il centro storico